Ciao a tutti amici di autoprove.it e benvenuti a questo focus dedicato al sistema di infotainment e alle tecnologie di nuova Renault Zoe Voglio cominciare questo focus dedicato al sistema di infotainment e alle tecnologie dall'esterno con questi fari anteriori full led molto belli Si integrano visivamente con la calandra al centro un grande logo Renault cosa c'è dentro? Si nasconde qui dentro la presa di ricarica che vedete grazie al sistema Chameleon integra anche la combo da 50 kilowatt in corrente continua che va a tagliare in maniera importante i tempi di ricarica Siamo a circa un'ora e 10 per passare da 0 all'80% qua sotto invece a livello del paraurti il radar per il funzionamento degli ADAS di bordo fra i quali la frenata automatica d'emergenza Ingresso keyless quindi teniamo comodamente la chiave in tasca e accediamo all'interno dell'abitacolo Ed eccolo qui l'abitacolo di Renault Zoe trovate già sul canale la prova su strada completa in questo focus però voglio concentrarmi sulle tecnologie di bordo Noterete il quadro strumenti completamente digitale visibile dietro al volante multifunzionale e poi la plancia dominata dallo schermo centrale del sistema di infotainment Parlando del quadro strumenti beh decisamente fluido intuitivo non lo possiamo configurare completamente perché ad esempio al centro manteniamo sempre l'indicazione della velocità Questa linea vedete che ci indica il fatto che stiamo chiedendo energia alla batteria oppure se andiamo giù andiamo in charge quindi stiamo ricaricando la batteria da 52 kilowatt ora Possiamo però configurare il lato sinistro e lato destro del quadro strumenti a sinistra visualizziamo il livello di carica della batteria L'autonomia residua espressa in chilometri ma possiamo andare a visualizzare altre informazioni le settiamo qui Ad esempio vedete abbiamo la dinamica veicolo quindi informazioni che sono utili esempio l'energia che stiamo consumando a livello istantaneo La nostra media consumi possiamo poi vedete avere l'autonomia a pressione degli pneumatici andando qui invece andiamo sui media In riproduzione la navigazione e qui le info per quanto riguarda appunto i consumi visualizzate però graficamente Siamo qui sul lato destro si vede un po' poco c'è una fogliolina più diventa verde meglio stiamo usando il pedale dell'acceleratore Altrimenti stiamo consumando di più e qui graficamente invece abbiamo indicazioni per quanto riguarda appunto l'energia Quindi stiamo ricaricando la batteria oppure stiamo sfruttando l'energia immagazzinata all'interno della stessa Al centro invece la dinamica di funzionamento degli ADAS ad esempio il lane assist piuttosto che la lettura dei segnali stradali ADAS Dei quali però sto per andare a parlarvi volante multifunzionale dai tasti ben grandi Questo perché il Renault continuano a portare dietro al volante su questo selettore alcuni comandi Quindi alziamo abbassiamo il volume svicciamo fra i media con questo rotore Il volante quindi è più chiaro più leggibile più sfruttabile Lato sinistro vedete andiamo a settare ad esempio il cruise control Qui invece abbiamo i tasti per le chiamate, l'assistente vocale Centro plancia con il sistema di infotainment da 9,3 pollici Interfaccia classica, intuitiva, quella che abbiamo imparato a conoscere in questi anni in casa Renault Abbiamo una home riassuntiva Al centro la navigazione, i media piuttosto che il nostro telefono connesso all'auto Possiamo poi configurare la visuale come vogliamo Abbiamo una dinamica un po' simile a quella di uno smartphone Quindi trasciniamo le icone e andiamo a definire quindi la nostra home come vogliamo Ma possiamo richiamare da qui su anche i profili utente Quindi chiunque utilizza quest'auto perché magari la condividiamo in famiglia Potrà semplicemente richiamare la sua home, le sue impostazioni preferite Andando quindi a schiacciare lì su profilo utente Andando qui invece siamo sulla classica schermata riassuntiva dei vari comandi vettura Navigazione che è decisamente fluida, intuitiva Vedete quante informazioni andiamo a richiamare Questo perché l'auto è sempre connessa in rete grazie al modulo dati di bordo E ci porta quindi informazioni davvero importanti Ad esempio c'è traffico durante il nostro percorso Ci sono autovelox, fissi mobili, ci sono interruzioni stradali Ma soprattutto ci saranno stazioni di ricarica lungo il percorso Ebbene tutto visualizzato in tempo reale con tanto di dettaglio Per quanto riguarda le singole stazioni di ricarica Quindi che tipologia di colonnina andremo ad incontrare Saranno libere o meno tutte informazioni che abbiamo in tempo reale E poi l'auto graficamente ci restituisce una panoramica di quello che è il percorso che possiamo coprire Con l'autonomia che abbiamo a livello della batteria Brava Renault perché questa navigazione tailor made per l'auto elettrica è decisamente utile Parlando poi di radio che è ovviamente digitale Abbiamo la possibilità di collegare il nostro smartphone via bluetooth Non manca l'USB, l'Auxin ma c'è anche Android Auto ed Apple CarPlay Torno indietro Abbiamo poi ovviamente il nostro telefono connesso alla vettura Richiamiamo le impostazioni in maniera veloce Le app, quindi visualizzazione video foto Le informazioni in tempo reale Quindi energia, flusso energia che visualizziamo graficamente Guardate questa schermata quanta è carina Con il motore anteriore e la batteria centrale E poi abbiamo, vedete, uno storico vero e proprio Di quelli che sono i nostri consumi in tempo reale Visualizzabili a livello appunto di dettaglio Guardate, fino al tempo reale Quindi c'è veramente una sfruttabilità Di quella che è la dinamica di funzionamento dell'auto Con grande chiarezza Noi sappiamo come ci stiamo comportando Come il veicolo sta rispondendo anche al nostro stile di guida Quindi se magari lo dobbiamo aggiustare Per portare l'auto a percorrenze chilometriche più interessanti Le impostazioni qui generali Il display, il suono, insomma tutto configurabile Ad esempio qui vedete la nostra LAN Di bordo con la vettura che è sempre connessa Informazione in tempo reale che possiamo andare a visualizzare Tramite la app My Renault Vengo adesso al capitolo ADAS Ci sono tanti dispositivi di assistenza alla guida a bordo di Renault Zoo E forse ce ne doveva essere qualcuno in più Ad esempio non capisco per quale motivo Manchi il cruise control adattivo Ma ci sia soltanto il cruise control semplice Perché l'adattivo ad esempio ci avrebbe aiutato Non solo ad essere un po' più rilassati Sulle lunghe percorrenze Ma ci avrebbe portato a bordo anche la one pedal drive Quella tipica delle auto 100% elettriche Laddove andavamo a sfruttare soltanto il pedale dell'acceleratore Al rilascio l'auto regolava poi la velocità in funzione dei veicoli Che venivano ad essere presenti davanti a noi Funzione che purtroppo non abbiamo neanche a pagamento Abbiamo il lane assist però soltanto come avviso di abbandono involontario della corsia Quindi non abbiamo la funzione di centraggio Ecco l'assenza di cruise control adattivo e lane assist concentraggio della corsia Sono costati veramente cari a Renault Che ha totalizzato 0 stelle con questa Zoe nei test Euro in Cap Purtroppo ha perso tantissimi punti rispetto alla commercializzazione nel 2013 Abbiamo poi il blind spot con questo led in corrispondenza agli specchietti esterni Che ci avvisa della presenza di veicoli o motoveicoli in avvicinamento laterale Abbiamo la lettura dei segnali stradali Abbiamo la frenata automatica d'emergenza E poi non manca la retrocamera Vedete la risoluzione non è elevatissima Però abbiamo sensori di parcheggio anteriori e posteriori Che ci aiutano veramente tanto Parlando poi di sistemi ADAS Comunque tutte le impostazioni le andiamo a richiamare Comodamente attraverso il nostro sistema di infotainment Qui andando appunto su impostazioni Veicolo assistenza alla guida E possiamo gestire appunto nel dettaglio La loro dinamica di funzionamento Torno qua perché abbiamo l'assistenza al parcheggio C'è un tasto dedicato qui Cosa significa? Significa che Renault Zoe parcheggia da sola Non solo nei classici parcheggi in linea Ma in tutte queste tipologie di parcheggio Che andremo facilmente a trovare in città Come funziona? Beh basterà semplicemente seguire le indicazioni Sullo schermo del sistema di infotainment Inserire su drive o retromarcia Per andare a eseguire il parcheggio Quindi l'auto ci farà soltanto questa richiesta Perché poi azionerà da sola il volante Davvero comoda come funzione E poi torno qui Per mostrarvi Vedete la possibilità di programmare la ricarica Quella è un'operazione che possiamo avviare Anche attraverso la app My Renault Cosa c'è al di sotto del sistema di infotainment? Vedete la possibilità di riscaldare su due posizioni Sedile del conducente Sedile del passeggero anteriore La modalità eco per ridurre i consumi Le modalità di parcheggio automatico Qua sotto invece abbiamo i selettori Per il nostro climatizzatore Che è in monozona Vedete al centro dei rotori Questi pratici schermi Per settare intensità Temperatura Direzionamento del flusso Qui abbiamo invece ingresso AUX In due ingressi USB tipo A La presa da 12 volt E questo spazio con superficie gommata Dove riporre la chiave del veicolo Qua c'è il selettore Che abbiamo settato adesso in neutral Possiamo avere retromarcia Ma qui c'è anche questa modalità BI Che è sostanzialmente quella che aumenta la frenata rigenerativa E quindi porta l'auto ad essere molto più capace Di recuperare appunto energia in fase di accelerazione E frenata Qui c'è una soluzione tipica a livello di design Renault In particolare l'ho vista su Capture Quindi il tunnel centrale su due livelli Qua sotto vedete la piastra di induzione Per la ricarica dello smartphone Freno a mano elettronico Due portabottiglie bicchieri Quindi attenzione anche alla funzionalità Sotto questo punto di vista Per chi siede dietro Qua ci sono due ingressi USB tipo A A sinistra del volante invece ci sono altri comandi Vedete il mantenimento della corsia O meglio l'avviso di abbandono involuntario della corsia Possiamo scegliere l'illuminazione del nostro quadro L'altezza dei fari L'apertura dello sportellino di ricarica Che c'è lì dietro al logo E poi il volante riscaldato Piuttosto che la disattivazione di quelli che sono gli avvisi sonori Per quanto riguarda la regolazione del volante In altezza si può fare comodamente Ma si può gestire anche la sua regolazione in profondità Decisamente comoda Per quanti magari vogliono allontanare un po' il sedile dal volante Per una guida più rilassata Purtroppo però il sedile non si può regolare In altezza quindi abbastanza standard A me questa posizione di guida non dispiace Però magari qualcuno particolarmente alto Io sono alto 1,80 m Potrebbe toccare con la testa il cielo dell'auto Il dettaglio di questi sedili molto molto belli Non sono particolarmente avvolgenti Non possiamo regolare il poggiatesta in altezza Questo allora era il focus dedicato al sistema di infotainment E alle tecnologie di Renault Zoe Adesso però come sempre voglio sentire la vostra Ditemi tutto quello che ne pensate qua sotto nei commenti Perché leggo e rispondo volentieri a tutti Prima di salutarci però l'invito è quello solito Andate a curiosare in tutti i vari social di autoprove I vari Facebook, Twitter, Instagram Seguite il blog che è sempre aggiornato Con le ultime novità e curiosità dal mondo dei motori Ma soprattutto iscrivetevi a questo canale YouTube Perché ci troviamo sempre qui per il prossimo video Ciao